Il Cavaliere la vuole vedere nel suo ufficio subito. Sono proprio curioso di sentire la sua giustificazione. Sono desolato del ritardo, Cavaliere, ma stamattina ho trovato un ingorgo... Ma quale ingorgo? Ma che ritardo! Lei ieri sera è mancato, è un fatto gravissimo! Temo di non capire... La partitella del giovedì! C'erano tutti tranne che lei! Gli scappoli hanno dovuto giocare in dieci, senza portiere! Qui dentro la regola è lavora e gioca! Ne va dello spirito dell'azienda! Dio, Tosetto, le guarnizioni e il folver, ricorda? Non tollererò altre assenze, chiaro? Vada adesso, ragioniere, vada! Sì! Ma cos'è Dolores? Un cordiale, Cavaliere. Eh, cambiamo marca, non so. Questo cordiale è... Non è cordiale, capisce? Il mondo non si ha perduto mai un momento... Sar... Anche Voli e Pelos...